Di segnalazione in segnalazione. Sono al quartiere Paolo VI, in via della Tecnica, alle spalle di Piazza Sommovigo, per intenderci. Vedete, abbiamo queste abitazioni, ma mi soffermerò oggi proprio su questa stradina. Vedete qui anche le villette, le casette a schiera. Tante le criticità di quest'area. Tante. Incominciamo dalla pulizia, anzi dall'assenza assoluta di pulizia. Un porcile. L'amministrazione comunale evidentemente non considera cittadini di Taranto coloro i quali abitano qui. Vedete questa piccola aiuola, questa striscetta di verde completamente abbandonata. Qui l'AMIU non viene, non c'è traccia assolutamente degli operatori dell'AMIU. Sono disposizioni dell'amministrazione che ha detto evidentemente che questa zona deve essere abbandonata a se stessa. Un porcile, perché ripeto, non viene mai fatta la pulizia. Guardate anche lì, dei sacchetti abbandonati da tempo immemorabile. Guardate, nessuno si degna di rimuoverli. Stanno lì, vita natural durante. E ancora, poi andiamo proprio al vero problema, al clou, manto stradale di questa stradina, vedete questa stradina laddove ci sono i civici, 78, 80, 82, 40, fino in fondo. Prego all'operatore di farci vedere tutta la stradina, oltre al manto stradale dissestato, pericolosissimo, che sembra un campo da golf per le varie buche, per i vari dislivelli. Quindi tutti i rischi annessi e connessi al transito, ma la cosa grave è che qui transitano le auto, molto spesso, vedete, le auto sfrecciano. E la cosa grave è che già è capitato che qualcuno, aprendo la porta, quindi coloro i quali abitano in queste villette, aprono la porta e vengono travolti, mentre scendono, mentre superano il gradino, vengono sbalzati in aria da qualche macchina che scappa. Questo è già successo e ora non stiamo inventando nulla. È successo perché una bambina, tempo fa, fu travolta, fu sbalzata in aria. Allora io dico, al di là dei rallentatori che sono stati messi, questo pezzetto di strada, il cui transito delle macchine è perfettamente inutile, va interdetto al traffico veicolare. Che senso ha far transitare qui le macchine che poi scappano e poi si crea il problema delle persone che escono dalle villette e vengono travolte? Quando a un metro, a due metri di distanza c'è una bella strada ampia in cui le macchine possono transitare. Allora perché io devo andare a rendere la vita impossibile, rischiosa per coloro i quali abitano qui? Vedete? Abitano qui. Perché devo far transitare qui le macchine? Le devo far scorrere quando tranquillamente chi deve passare in macchina passa qui. Che differenza c'è tra qui, tra il transito veicolare qui e il transito veicolare lì? Io passo da qui, le macchine passano da qui, non è necessario che transitino lì, nonostante, ripeto, le segnalazioni, nonostante gli incidenti che ci sono verificati. E allora qui torniamo a dire sempre le stesse cose. Ma cosa dobbiamo aspettare? Che ci scappi il morto? Che qualcuno venga di nuovo sbalzato in aria? Piccoli accorgimenti e poi ovviamente la manutenzione. Perché insomma il cittadino paga le tasse. Il cittadino paga le tasse. Ma scusate, caro amministrazione Melucci, caro sindaco Melucci, caro assessore alle società partecipate Michele Mazzariello. Bene, qui i cittadini pagano le tasse, devono stare nel porcile? L'AMIU non esiste qui, presidente Bancarelli. L'AMIU non esiste, cos'è terra di nessuno? Cos'è c'è un'extraterritorialità, non fa parte del comune di Taranto? E torniamo a ripetere le stesse cose. Però signori cari, le tasse, la Tari, la sapete chiedere ai cittadini di quest'area. E' in compenso come disservizio, come servizio disservizio, anzi disservizio, li lasciate in questo porcile. Proprio ora che poi la Tari aumenterà del 50% in più. Va bene. Ma la cosa che più mi preme, nelle immediatezze, mi rivolgerò anche al comando di polizia locale, perché non è possibile, qui deve essere interdetta al traffico, qui si rischia la vita. Io esco dalla porta, faccio simulo l'uscita dalla porta, neanche mi rendo conto e vengo scaraventato in aria. Con la vita non si scherza, sindaco Melucci, signori della polizia locale, con la vita non si scherza. Immaginate un bambino che magari esce di casa e i bambini sono un po' azzardano. Immaginate cosa può succedere. Salvaguardiamo la vita delle persone, per favore. Grazie. 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 Grazie.